Il vizio della gola al centro della riflessione del Papa all'udienza generale del 10 gennaio in aula Paolo VI. Gesù ha spiegato il Papa, ci dice che la bontà ruota attorno alla relazione che abbiamo con il cibo e non con il cibo in sé. E noi lo vediamo, quando una persona ha un rapporto, una relazione non ordinata con il cibo, guardiamo come mangia, mangia di fretta, con la voglia di saziarsi e mai si sazia e non ha un rapporto buono con il cibo, è schiavo del cibo. Il rischio è che si manifestino squilibri e patologia, ha osservato il Papa, citando alcune malattie connesse all'alimentazione molto diffuse oggi come l'anoressia e la bulimia. Dimmi come mangi e ti dirò che anima possiedi. Nel modo di mangiare si rivela il nostro interiore, le nostre abitudini, i nostri atteggiamenti psichici. Dal punto di vista sociale, ha aggiunto, la gola rappresenta il vizio più pericoloso che sta uccidendo il pianeta. Il peccato di chi cede davanti a una fetta di torta, tutto sommato non provoca grandi mali, ma la voracità con cui ci siamo scatenati da qualche secolo a queste parti, verso i beni del pianeta, sta compromettendo il futuro di tutti. Abbiamo fatto un passo indietro sul fronte della custodia delle risorse del pianeta, dedicandoci più che altro allo sfruttamento. Ecco dunque il grande peccato, la furia del ventre. Abbiamo avviurato il nome di uomini per assumere un altro, consumatori. E oggi si parla così nella vita sociale, i consumatori. Da qui l'esortazione conclusiva del Papa. Chiediamo al Signore ci aiuti nella strada della sobrietà, che tutte le forme di gola non si impadroniscono della nostra vita.